La programmazione del Fondo Sociale Europeo PLUS 2021-27 è una grande opportunità per il nostro territorio. Sono infatti 150 milioni di euro per creare nuovi posti di lavoro, promuovere l'istruzione e formazione, favorire l'integrazione delle persone nel mondo del lavoro, sostenere programmi formativi per le imprese e aiutare le persone in difficoltà. Conoscere il programma e le regole di gestione dei progetti finanziati costituisce quindi un vantaggio irrinunciabile per tutte le realtà imponitoriali e sociali del territorio. È per questo che la provincia autonoma di Bolzano mette a disposizione un percorso informativo che fornisce un inquadramento generale sulla nuova programmazione e sulle opportunità offerte dal programma. I filmati che vi proponiamo permettono di approfondire le regole che disciplinano la gestione dei progetti, le principali novità in termini di controllo di ammissibilità della spesa, gli adempimenti per il monitoraggio e le attività di comunicazione. Queste informazioni sono fondamentali per beneficiare al meglio delle opportunità offerte e realizzare progetti di qualità e coerenti con le sfide del programma. Progetti quindi capaci di garantire la miglior risposta ai fabbisogni del territorio e dei partecipanti e di assicurare ai beneficiari le giuste condizioni per attuare le misure in modo sereno, competente e sostenibile.